Benvenuti signori all'interno di questo nuovo video. Visto che in molte persone me l'hanno chiesto, andremo a trattare in questo nuovo video un po' il discorso dell'agency. Voi come ben sapete, soprattutto le persone che mi seguono, sanno bene che noi abbiamo avviato la nostra agency da meno di un anno e attualmente la nostra agency si aggira ad un netto mensile stabile che stiamo scalando nel tempo oltre ai 140.000 euro mensili, ovviamente di netto. Molte persone non capiscono che, soprattutto in un discorso di agency online, quindi diciamo un'entità che si occupa di aiutare imprenditori, persone ad iniziare o comunque a scalare quello che è un business già abbiato, le persone non capiscono che è un win to win. Se non è un win to win e non fate fare i soldi ai vostri clienti, automaticamente voi non andate avanti. Non sto dicendo che magari tutti i clienti li scalate di portati alle stelle, chi più chi meno, ovviamente il vostro tasso di successo deve essere abbastanza alto per poi trattenervi quei clienti poi nel tempo, nel lungo diciamo periodo. Il discorso qual è? Ed è anche il discorso che vi farò oggi. Vi farò un video proprio sul come avviare un agency attualmente nel 2022, perché sto registrando questo video proprio nel 2022 di febbraio. Voi non avete idea della quantità di clienti che oggigiorno è disposta a darvi soldi per erogare loro un eventuale servizio per quanto riguarda le attività dell'imprenditore, dell'azienda, della persona, eccetera, eccetera. Voi non avete idea di quante persone hanno bisogno dei vostri servizi al giorno d'oggi. Ed ecco perché nella nicchia e-commerce non solo c'è la vendita di prodotti, sì faccio e-commerce e tutto quanto, ma c'è soprattutto la vendita di servizi. Anzi, ne parlavamo nella video intervista del ragazzo che da cameriera è passato a fare 10.000 euro netti e stabili al mese in modo, diciamo, long term, in modo continuativo, quindi non da un mese, quindi da svariati mesi. E proprio nell'intervista si parlava di quanto sia anche importante una volta che si è avviato un e-commerce e hanno successi ad avviare anche un agency. Quindi piano piano incominciare ad erogare servizi a persone o aziende e piano piano costruire la propria agency. Cosa vuol dire? Costruire semplicemente un team. L'agency non è in alcun modo un ufficio. E se voi avete un ufficio non vuol dire che avete un agency profittevole fra le mani. Un agency profittevole vuol dire che è un agency formata da un team di persone furbe, capaci, schillate, ma soprattutto che aggrediscono il mercato sui clienti che poi andate a derogare il servizio vero e proprio. Vediamo perché nell'e-commerce avete vari sbocchi. Io ci tengo tanto a questa nicchia, ormai nicchia, praticamente attualità, e fa parte di una grossa fetta all'interno della nostra vita. Non so se vi fate un attimo mente locale, quanti di voi comprano online merch? Andate su Amazon, andate sui siti, comprate qualsiasi cosa, abbigliamento, cucina, cibo, qualsiasi cosa. E ormai oggigiorno sempre più persone comprano online. E le persone che dicono no, la concorrenza e tutte queste idiocie qui, non capiscono che il gap fra le persone che acquistano online e le persone che vendono online, in mezzo c'è ancora uno spazio abnorme. E la quantità di persone che crescono nel comprare online rispetto alla quantità di persone che crescono nel vendere online, non è paragonabile. Vi assicuro che il numero delle persone che acquistano online, praticamente tutti noi, in tutto il mondo poi oltretutto, è molto maggiore rispetto alla quantità di persone che si mettono a vendere online. Poi è ovvio che se volete avviare un'agency locale, quindi che volete seguire attività locali, eccetera, eccetera, è ovvio che se non vi sbrigate, non vi date la mossa e non alzate quelle chiappette e andate a lavorare a cercarvi i vostri clienti, è ovvio che qualcun altro poi arriverà nel tempo e vi fotte da sotto il naso i clienti. Questa cosa è ovvia. Ovviamente non si erogano servizi al giorno d'oggi solo nella nostra località, non solo nella nostra geolocalizzazione, non so, abito all'eco, le attività in giro per com, eccetera, eccetera. Ad esempio noi con la nostra agenzia abbiamo clienti in tutto il mondo. Abbiamo clienti in Italia, abbiamo clienti in UK, abbiamo clienti a Dubai, eccetera, eccetera. Perché con il mondo digitale ormai il mercato è esploso a livello globale. Quindi i vostri clienti ce li avete all'interno del computer della rete, in giro su Instagram, ce li avete lì. I vostri clienti sono all'interno del vostro fottuto computer. Sta solamente a voi andarveli a prendere. Per molte persone fare 100.000 euro al mese è una follia, ma vi assicuro che non è un risultato gigantesco. È un risultato enorme, siamo d'accordo. È un ottimo risultato anche fare 10.000 euro al mese netti attraverso un'agency. È un ottimo risultato, ma vi assicuro che ci sono persone o studenti che fanno anche, c'è più di 100.000 euro al mese netti vendendo servizi. Ma soprattutto sono risultati stabili nel tempo. Perché ovviamente a noi di fare anche 100.000 euro in un mese non ce ne può fregare assolutamente nulla. È meglio farne 20, ma per anni. Ovviamente questi risultati vanno anche scalati nel tempo. Si assumono persone, si va avanti con il team, si vanno avanti con i clienti. Ci sono i clienti che ritornano, ci sono i clienti che arrivano. Quindi c'è un accumulo di persone che, diciamo, è abbonata. Ad esempio, la video intervista che abbiamo fatto, sono passati da 0 a 200.000 euro di fatturato con un 55% di netto all'interno del loro store. Adesso li stiamo spostando globalmente, eccetera, eccetera. E a noi ci danno un fisso di 8.000, 10.000, 15.000 euro al mese. Per fargliene generare 100.000. Noi praticamente gli diamo tutto. Quindi capite bene che è un win to win. E l'obiettivo è di trattenersi il cliente poi long term per anni. perché lo fate scalare e ovviamente il cliente resta con voi fisso. Non vi nascondo anche che la concorrenza per quanto riguarda l'agency in Italia fa veramente cagare. L'agency in Italia hanno un modus operandi che non hanno cambiato poi nel tempo perché prendono persone sottopagate. Faccio un esempio. È meglio un'agency di persone che lavorano tutte da remoto e che sono tutte in percentuali rispetto all'agency di Milano con tutti i programmatori, media buyer, tutti in sottofisso, neanche in fisso, in sottofisso che magari gli si danno 1.000 euro al mese, 1.500 euro al mese o 2.000 euro al mese. Vi assicuro che il team di ragazzi, di persone che sono esperte, schillate in remoto, che sono dentro in percentuale, vi assicuro che quell'agency lì che lavora in remoto li spacca le palle, spacca il culo all'agency vecchia perché ormai puzza anche di morte, ci sono le ragnatele come la conosciamo tutti, quindi con l'ufficio, con gli appuntamenti dal vivo. Ok, tutte queste idiozze ragazzi, siamo nel 2022, esiste Zoom. Praticamente tutto il lavoro viene fatto online, datevi anche una svegliata. L'altro giorno ad esempio abbiamo avuto una persona in consulenza che sta avviando il proprio e-commerce perché faceva Amazon FB e gli hanno bannato l'account. Si era costruito nel tempo un account posizionato con i prodotti, faceva anche Kindle, gli hanno bannato anche l'account Kindle. Kindle andava anche bene, faceva il self-publishing eccetera e faceva 5.000 euro netti al mese con i libretti e ci aveva messo mesi e mesi, se non anni, se non sbaglio, a costruire quell'account Amazon. Da un giorno all'altro si è svegliato e l'account Amazon non era più presente, era bannato. Quindi praticamente Amazon vi ha tolto l'attività da sotto al naso. Questa cosa non va bene ragazzi, non va bene. Voi dovete avere il pieno controllo su ciò che fate, ok? Sul vostro business. Ci deve essere il pieno controllo. Ecco perché bisogna andare nella direzione dell'e-commerce perché le vendite online fanno parte della nostra vita H24 7 su 7. Non si fermano mai. Dopo la pandemia c'è stata un'esplosione abnorme e sta continuando a esplodere questo mercato qui. Nell'ambito e-commerce non è che per forza dovete vendere prodotti. Se voi avete risultati con l'e-commerce, come vedevamo nell'intervista, potete splittare dei servizi. Per me è stato relativamente semplice avviare l'agency perché avevo personale, che poi sono ragazzi, come potresti essere tu, gente schillata ma anche giovane, che erano bravi nell'e-commerce, ottenevano grossi risultati e semplicemente li ho messi anche per quanto riguarda l'erogazione di servizi. E quindi se ci pensate bene, bene, ti fai uno stipendio a dividendi dei 20k al mese perché non fartene 40 duplicando il lavoro e mettendosi anche a vendere servizi e gestendo clienti. Ovviamente la cosa che consiglio è sempre avere pochi clienti, ok, che spendono tanto, ma soprattutto clienti qualitativi. Molte persone non si capacitano del fatto che anche se non si hanno budget per le ads, per fare l'e-generation, eccetera, è ovvio ragazzi che quando siete all'inizio dovete alzare il culo da terra. Questa cosa è ovvia, non ci piove sopra e lo sappiamo tutti. Però i vostri clienti sono sul computer, sono in rete. Se voi volete avviare, volete iniziare a vendere servizi in modo geolocalizzato, quindi nel vostro paese, nella vostra città, eccetera, eccetera, vi assicuro che ci sono clienti che sono lì e stanno aspettando il vostro servizio. Se voi andate semplicemente su Instagram, andate a vedere le geolocalizzazioni, andate a vedere i post che sono andati virali nel vostro paese, di conseguenza vedrete che incominciate a trovare la prima pizzeria, incominciate a trovare la prima palestra, incominciate a trovare il primo negoziante nella vostra nicchia dove potete erogare un ottimo servizio, che sia di media buyer, che sia di fotografia, dove dovete prendere un fotografo a fare un book fotografico, che deve essere un sistema di lead generation, che magari vogliono tutto l'intero ecosistema per attrarre clienti, per attrarre denaro all'interno della loro attività. Li trovate anche su Instagram, utilizzateli questi social. Non dovete stare nel feed di Instagram a scrollare, a vedere tette e culi e a smaldrupparvi. Utilizzateli i social, perché sono una potenza assurda anche su TikTok, stessa cosa vale per Google, e stessa cosa anche Facebook, eccetera, eccetera. Facebook, voi non avete idea dei clienti che potete attrarre, che potete integrare all'interno del vostro ecosistema, semplicemente iscrivendovi all'interno di gruppi Facebook, dove la gente si malmena, ma lì dentro potrebbe esserci una whale, ci potrebbe essere una balena, il vostro cliente balena altospendente. Ovviamente poi, ragazzi, le persone possono anche pagarvi un mese, poi se non erogate un servizio buono, non ce l'avete il prossimo mese. Queste cose qui sono ovvio, si basa tutto sulla qualità del servizio, però diciamo che il problema principale è come attrarre clienti, come entrare in contatto con i clienti. Poi vi consiglio di avere, noi abbiamo il nostro percorso Lion Circle, dove spiego da L a Z, da come avviare un agency di successo, però il discorso è che, ovviamente, il primo step in assoluto è, ovviamente, essere skillati, e non per forza voi dovete essere skillati, potete prendere anche persone che conoscete, o comunque assumere persone in percentuale, che erogano il servizio. Vi faccio un esempio banale, attragga un cliente, attragga una palestra, questa palestra mi paga 20.000 euro al mese, vi assicuro, per una palestra, un investimento di 20.000 euro al mese, una palestra, non dico piccola, media, ok? Un 20.000 euro al mese in marketing, vi assicuro che è assolutamente il nulla cosmico. Per loro è sempre un investimento, se lo detraggono dalle tasse, eccetera, eccetera. Fatto sta che nel 2022, un'attività deve investire online, altrimenti muore, fallisce, non è un'opinione, è un dato di fatto, è realtà, signori. Vi assicuro che 20.000 euro è un investimento per la loro prosperità, per i loro soldi, i loro abbonati, e di come andrà quell'attività poi durante l'arco del tempo. Se a voi vi arriva un cliente, voi non sapete fare assolutamente nulla nelle Facebook Ads, nelle Google Ads, nel marketing in generale, ragazzi, nel copio, nulla, ok? Non sapete nulla di ecosistema di marketing. Potete assumere un team, splittare il servizio, affidarvi eventualmente a un agency, quindi fate anche uno split di servizio. Vi sto dando un po' di idee, ma potete fare veramente di tutto. Splittare il servizio ad un agency che conoscete o meno che c'è una grossa reputazione, anche ad esempio la nostra, splittate il servizio, li date 15.000 euro e di conseguenza eccolo lì che avete semplicemente la responsabilità eventualmente dell'attività e vi siete trattenuti un 5.000 euro di commissioni senza fare assolutamente un fico secco. Non avete fatto nulla. Questo per farvi l'esempio. È ovvio che dovete costruirvi il team, l'azienda, l'ecosistema, tutto quanto, però per farvi un esempio, anche se non sapete fare nulla, dovete prendere personale. Io ad esempio, nelle mansioni che facciamo per non essere clienti, sono super esperto ed è la mia strada. Io sono esperto di e-commerce, genero milioni online attraverso l'e-commerce, eccetera, eccetera, però fatto sta che è ovvio che a un certo punto ho dovuto assumere gente in gamba, gente accattivante come me, gente aggressiva come me, schillata come me. È ovvio perché completamente da solo non potete fare grossi numeri. Fino ai primi 10.000, 20.000 euro al mese netti potete farlo anche da soli perdendo capelli e tutto quanto. Siamo d'accordo. Però poi per scalare un'agency vi serve per forza personale. Voi adesso immaginate quando io ripetevo voi non avete idea dei miei studenti che hanno preso i nostri percorsi formativi due anni fa, hanno studiato, sono diventati esperti delle vendite online, non avete idea di quanto il loro business si è ramificato e ha incominciato a moltiplicare totalmente le entrate perché si sono messi a vendere servizi, vendono prodotti facendo e-commerce i loro brand, magari si sono aperti le porte nell'ambito consulenziale perché anche al giorno d'oggi l'ambito consulenziale quindi erogazioni di info prodotti è abnorme perché noi come azienda di formazione facciamo sempre più soldi e siamo da anni nel settore vendiamo informazioni e di conseguenza visto che ci sono tantissime testimonianze tantissimi feedback ottimi risultati alle persone anche le persone che vengono in mentor con noi ci restano all'incirca abbiamo fatto una stima il 60-68% 80% delle persone che vengono in mentor con noi rinnovano quindi comprano ad esempio un pacchetto da 3-5 mentor one-to-one con me o con il mio team e poi successivamente il mese dopo rinnovano perché scalano i loro business e noi li aiutiamo nel farlo non avete idea dei miei studenti esperti di e-commerce quanto hanno ramificato i loro servizi le loro entrate le loro robe abbiamo il brand facciamo tot ok bene prendiamo altro personale prendiamo un team di vendita le ads facciamola anche sulla vendita di servizi costruiamo la nostra agency c'ho il contatto di questo fornitore allora cosa faccio allora mi invento un servizio dove offro il sistema di fulfillment attraverso questo agent perché è un agent che ho testato io ed affidato allora risplitto il servizio alle persone esterne che hanno bisogno di questo servizio che a sua volta possono anche risplittarlo sono bravissimo ottengo tantissimi risultati con le facebook ads con la parte di media buyer quindi con il traffico a pagamento cavolo apro un branch che si occupa solo di quella bene attraiamo clienti anche lì investiamo soldi attraiamo clienti anche in quel settore lì questa logistica è veramente ottima è un anno che mi spedisce i pacchi in modo rapido il COD Bartolini GLS si occupa di tutto loro posso splittare il servizio troviamo altri clienti di conseguenza capite che poi nel tempo vi è andata a costruire un colosso un impero basato tutto poi alla fine sull'e-commerce ecco perché l'e-commerce ha una vastità ha veramente una vastità di copertura assurda ed ecco perché abbiare un'agency al giorno d'oggi è ovvio che andate a aggredire l'e-commerce ripeto non si può definire nicchia perché è un macro settore di tutti i giorni che fa parte delle nostre vite praticamente di tutti ragazzi non malmeniamocela tutti compriamo online qualsiasi cosa le uova i vestiti e i dildo io no magari voi si però per farvi un esempio tutti compriamo online anche il divano ormai lo compro online anche ci va più a l'IKEA che palle andare all'IKEA andare a comprare le robe in giro un ammasso di gente tutti immoccolati lì poi magari vi si attaccano anche i germi eccetera che palle tutta la fila le robe perdita di tempo totale andate su IKEA vi arriva il divano a casa ve lo montano pagate anche il servizio di montaggio avete pagato anche per il vostro tempo perché voi valete molto di più di 80 euro l'ora dell'IKEA per montarvi il divano eventualmente no che dite tirateli fuori un po' sti soldi e quindi questo è il discorso non avete idea ragazzi vi ripeto non hai idea tu che mi stai ascoltando delle persone che sono disposte a pagarti è ovvio che ragazzi se voi state con la testa per aria a guardare non so cosa qualcuno arriva e vi prende il cliente da sotto i baffi questa cosa è ovvia perché le persone soprattutto il popolo italiano sta sempre lì nell'aspettare 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 e ma si vediamo continua a fare no che non c'è proprio assolutamente nulla da aspettare dovete aggredire il mercato il prima possibile ragazzi poi non malmeniamocela che i corsi costano i corsi dovete comprare li compro io l'ho comprati io se avrò speso 100-200 mila euro in corsi per corsi formativi tutt'oggi se voglio investire in borsa anche se è facile ho comprato le consulenze li compro investo su me stesso anche quando ero povero in canna la prima cosa che ho fatto è comprare i corsi per chi non ha soldi eccetera avete youtube avete questo canale iscrivetevi al canale oltretutto così vi appaiono tutti i contenuti in base alle vostre esigenze il mio video esplode così lo vedono il maggior numero di persone possibili fatto sta che ce l'avete tutti gratuiti contenuti quindi non avete scusa volete imparare a fare facebook e ci avete il video milioni di ore sulle facebook ads volete imparare google ci avete milioni di ore poi è ovvio che magari aprite il vostro primo e-commerce fate un po' di pratica fate un po' di esperienza se avete budget da investire vi fate seguire ad esempio dal mio team one to one eccetera eccetera fatto sta che le informazioni ce le avete anche gratis online non ci sono le scuse le scuse te le stai ponendo inutilmente da solo nella tua testa esistono solo lì è una tua falsa credenza è un paradigma sbagliato è come se fosse un programma installato nella tua mente che lo dovresti anche disinstallare è arrivata l'ora disinstallalo fallo andare via installa roba nuova perché insomma altrimenti ti ritrovi con windows 98 con i problemi e i codici di errore vi assicuro che determinati risultati all'interno di questo settore attraverso una agency online si possono ottenere tranquillamente non è un risultato abnorme per molti potrebbero essere fogliati mi ricordo che ci sono persone che vendendo jpeg fanno milioni ricordo che ci sono persone come il sottoscritto e come i suoi studenti che fanno anche milioni online voi sapete la massa di miei studenti persone in mentore eccetera quanti milioni di euro nel complesso spostano online voi non avete idea semplicemente perché sono persone che hanno iniziato e non c'è stato nessuna no è dotato no perché hanno iniziato hanno visto magari un mio video il video di qualcun altro il video di online di qualsiasi persona e hanno iniziato partendo dalle informazioni gratuite o quelle a pagamento online su google su youtube eccetera eccetera non è un risultato impossibile anzi attualmente vi sto dicendo è facilmente anche raggiungibile per il semplice fatto che rispetto a 4 anni fa dove magari tu ti proponere l'attività ma su facebook su isma chi se ne frega io c'ho i miei clienti oggigiorno se non fai pubblicità online se non ti apri posizioni digitali tu chiudi la serranda e le attività lo sanno perché da marzo 2020 lo hanno visto sul pratico ma soprattutto lo hanno visto nelle loro tasche per questo video è tutto spero di essere stato chiaro iscrivetevi al canale non fermatevi non staziatevi troppo anche perché il tempo passa signori bene siete resi conto il tempo passa per tutti se tu mi stai guardando ai 16 anni sei un fortunato solamente per il semplice fatto che stai guardando questo video e sei molto giovane per le persone che hanno magari 50 anni e stanno vedendo questo video non è mai troppo tardi ho tantissimi studenti 50 anni con figli anzi ho anche una testimonianza di un padre di famiglia di 50 anni con tre figlie che sta facendo 100.000 euro al mese attraverso un e-commerce si sono tutti licenziati all'interno della loro famiglia quindi datevi un po' una svegliata e non ci sono scuse signori ci vediamo al prossimo video io vi saluto mettete like al video iscrivetevi al canale ciao iscrivetevi al canale grazie a tutti